La gente mi parla sempre di programmi televisivi fantastici che devo assolutamente vedere, ma la verità è che io non voglio la tv di qualità, non voglio romanzo, qualcosa di lento, impegnativo. Per questo mi realitiscio. Sono divertenti, melodrammatici e mi ci concentro. È puro e semplice intrattenimento. Voglio sdraiarmi un momento e dopo un po' realizzare che ho guardato 22 ore di seguito Love Island nell'arco di due giorni e voglio vederne ancora. Qualcuno può trovarlo deprimente? Io no. Però è un buon modo per misurare la depressione, perché quando i reality show iniziano a sembrare impegnativi come l'ultima stagione di Mad Men, capisci che sei depressa. Al punto che non ti sei alzato dal letto per fare pipì da 24 ore.